Alla seconda commissione la maggioranza scappa e chiede il numero legale assentandosi sugli investimenti per quanto riguarda i nuovi presidi ospedalieri ad Avezzano, Lanciano, Vasto, Appenne, tutti quegli investimenti relativi anche alla centrale del 118 dell'Aquila. Un atto molto grave, hanno già dalla scorsa legislatura 143 milioni di euro in cassa, hanno investimenti per 228 milioni di euro e scappano rispetto a una mozione che chiedeva di confermare questi investimenti. Questa è la verità. Noi abbiamo denunciato da due anni ed oltre che questa giunta lenta, ora trasformandosi in giunta ferma, avrebbe bloccato qualsiasi programma di investimento sulla sanità e oggi gettano la maschera e addirittura lasciando e abbandonando l'aula chiedono a loro volta il numero legale. È una vera e propria vergogna anche questo modo di comportarsi e di confrontarsi con le opposizioni.